Musica Vi voglio un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Applausi Accolgo con gioia i fedeli della diocesi di Calta Girone Ma siete rumorosi voi, eh? Con il Vescovo Monsignor Calogero Peri nella ricorrenza del vicentenario della Fondazione Di ritorno da perichinaggio giubilare, il Papa ha definito la diocesi rumorosa. C'è stata una battuta molto bella perché si riferiva evidentemente al colore con cui, quando ha nominato la nostra diocesi, i nostri fedeli si sono fatti sentire. Questo è stato molto bello perché il Papa li ha potuti, possiamo dire, guardare, incontrare. E quindi, ecco, io mi auguro che questa esperienza, ecco, di essere rumorosi dal punto di vista dell'espressione, possa per davvero caratterizzare la nostra diocesi, ecco, nel rendere il rumore per il suo impegno per l'evangelizzazione, per l'impegno dei poveri, degli ultimi, dei marginati, degli immigrati. Insomma, ne abbiamo così tanti che un po' di rumore ci vorrebbe, forse un po' più, di quello che non riusciamo ancora a fare. La proposta di immigrati, lei ha invitato il Papa qui in diocesi, anche a visitare il Cara. Qual è stata la risposta? Devo dire che questo è l'invito che gli faccio ogni covolta, lo vedo, ecco, indicandogli, fin dal primo incontro, che lui mi disse che poi mi anticipò quella volta, il 23 giugno, anzi il 26 giugno del 2013, che sarebbe andato a Lampedusa. Lui si è mostrato sempre interessato a questo, però evidentemente so che in questo anno giubilare ha quasi annullato tutte, ecco, le visite in Italia, a meno quelle programmate, anche quello del convegno eucaristico di Genova. Io mi auguro che ci sia un'opportunità, un'occasione in cui, ecco, si possa mettere a fuoco quest'anello che ritengo sia quello più delicato, perché la prima accoglienza ormai riusciamo a farla bene sotto i riflettori, quindi c'è tanta attenzione. Invece è quello che succede dopo, immediatamente dopo, e il Cara ne è un esempio, anzi possiamo dire un concentrato di tutte le problematiche relative alla immigrazione nel momento in cui bisogna incominciare a stabilizzare, ad integrarli, a smistarli, insomma, tutte quelle fasi che ancora sono un poco o più che problematiche. Ma c'è anche una reddola che ha raccontato su San Cono, il protettore dei giocatori dell'otto. Sì, infatti quando gli abbiamo detto, ecco, queste fichidinde vengono da San Cono, lui ci ha detto, ma voi lo sapete che in America Latina San Cono è invocato dai giocatori di azzardo e quando prima di giocare pregano San Cono, lui è molto espressivo anche quando parla, ha fatto proprio questo gesto e poi gioca e si è messo a ridere, evidentemente, per dire, ecco, quindi San Cono, almeno come santo, non è il nostro, però gli era noto perché lì in America Latina c'è questo particolare riferimento. Nell'incontro che ho avuto gli ho prospettato anche la volontà, ecco, degli agricoltori, perché più volte che me lo chiedono di Mazzarrone, di Fardona al Papa, di un quantitativo d'uva per le persone povere. E lui, infatti, mi ha indirizzato ad una persona specifica con cui abbiamo preso accordi per vedere se è possibile realizzare. Diciamo che ogni volta, ecco, tentiamo di fare qualche cosa per gli ultimi, più deboli, il Papa è sempre disponibile, anzi, è lui ad incoraggiare, lui a dare, ecco, una chiave di soluzione, una risposta. Quindi, ecco, io mi auguro che anche questo legame tra la nostra terra e quello che produce l'esperienza lì di Roma, ecco, del Vaticano e in particolare di Papa Francesco ci possa mettere in contatto con un atteggiamento di donazione verso i poveri che lì ce n'è anche un concentrato, come spesso vediamo. Grazie a tutti.